Con lui ormai quasi alle spalle e il mese di agosto che bussa le porte, Napoli si conferma regina del sud anche per gli italiani, con un aumento di afflusso di turisti anche da altre zone del sud. In questi giorni nel capoluogo campano risultano numerosissimi, infatti i gruppi organizzati siciliani e pugliesi. Le attese vacanze estive sono finalmente in realtà, la regione campagna anche per quest'anno si conferma sicuramente sul podio tra le mete preferite dagli stessi italiani. Secondo l'osservatorio del Touring Club italiano, circa il 70% degli italiani resterà in Italia e si segnala una decisa ripresa del turismo urbano nelle città d'arte. Napoli pur registrando costi di viaggio piuttosto elevati dalle città di partenza selezionate ha alloggi a prezzi molto convenienti che rendono la vacanza complessivamente a buon mercato. In media per trascorrere la prima settimana di agosto in una località turistica italiana, tenendo conto dei costi di alloggio e di viaggio, due persone quest'anno spenderanno poco meno di 1000 euro, più precisamente 932. La casa in affitto rimane un'opzione molto apprezzata anche per questa stagione, per l'offerta di privacy che è in grado di garantire, mentre per Napoli è favorita la struttura alberghiera. Sentiamo qualche vacanziera ai piedi del Vesuvio. Abbiamo speso forse più di mangiare che di struttura, le strutture alla fine con 200-300 euro ce le abbiamo fatte per tre giorni qua a Napoli. Oggi penso che assaggeremo le cose tipiche di Napoli. Siamo di passaggio perché andiamo all'isola di Ponza per la prima volta, abbiamo visto che ha delle buone opportunità e speriamo in una bella vacanza. Noi che siamo veneziani abbiamo deciso di venire a Napoli tranquillamente, nessun problema. A lunedì, a venerdì, più o meno quanto abbiamo speso? Non ne ho idea, però abbiamo fatto tante pizze. Sì, fai 100-150 euro in cinque giorni. Alloggiamo in una casina lì a Santa Chiara. Prima volta a Napoli? Sì, primissima volta che siamo a Napoli.